Un grande successo in piazza Francesco Pizzo a Marsala, il tributo a Franco Battiato, avro cura di te, organizzato dalla Power Sound Service con la direzione artistica di Filippo Peralta, in collaborazione con l'Associazione Culturale Ciuri, la rivista online L'Opt Cultura, l'Associazione Giva, delegazione Marsala, con il patrocinio del Comune di Marsala. Un'iniziativa che aveva il duplice scopo di rendere omaggio al maestro Battiato, musicista catanese tra i più influenti degli ultimi 50 anni in Italia, e di valorizzare la fontana del vino di Marsala, rendendo viva la piazza anche con inediti giochi di colore che sono stati particolarmente apprezzati. Soddisfatto Filippo Peralta per l'evento che ha regalato ai presenti momenti di grande musica in un'atmosfera di grande intensità. All'evento musicale rappresenta il vice sindaco con delega alla cultura Paolo Ruggeri. Nel corso della serata uno spazio è stato dedicato a un'importante iniziativa sociosanitaria con la consegna al Comune di Marsala nella persona del vice sindaco di un defibrillatore donato dall'Associazione Batticuore e Battiolus, presieduta dal dottore Gaspari Rubino e dall'Associazione Ciuri, presieduta da Filippo Peralta, che verrà installato proprio in piazza Pizzo, crocevia e ingresso da diversi punti nel centro della città.